Amici dell'Orienteering, oggi Lavarone e Folgaria, Coppa Italia Sprint, vediamo come andrà a finire. Grazie a tutti. Per Dallavalle e Cipriani è stato un gioco da ragazzi. Andiamo a ascoltare la voce dei protagonisti. Come ti è sembrata la gara? Bella. Allora Luca Dallavalle, per un ex campione del mondo, oggi pronostico rispettato? Ma sì, diciamo che oggi la gara era molto fisica e sta molto bene fisicamente, poi su questi terreni riesco sempre ad andare bene. Milena Cipriani, la sorpresa, donne elite oggi, grande soddisfazione. Sì, sono veramente contenta, sono riuscita a fare una gara concentrata e era velocissima. Appuntamento domani alla gara long.